Nessuno si sarebbe mai aspettato che Annalisa avrebbe dato la notizia dell'addio. Cos'è accaduto alla cantante? Annalisa Scarrone, in arte Annalisa, è una delle cantanti italiane che in breve tempo sono riuscite ad avere un successo internazionale. Conosciuta a livello mondiale, la cantante partita dal talent Amici di Maria De Filippi, ne ha fatta di strada. La sua carriera è stata costellata di successi. A 38 anni, Annalisa è riuscita a ottenere numerosi riconoscimenti per i suoi brani, ed è da molti definita come la, regina della musica pop italiana. Bellissima e con una voce forte e potente, i suoi brani sono ormai dei tormentoni cantanti e ballati dalle persone di tutte le età. Quasi come se avesse bacchetta magica, ogni canzone da lei cantata riesce a diventare una hit. Come dimostra uno dei suoi ultimi successi, storie brevi, il brano cantano insieme a Tananai, è infatti disco d'oro. Ormai non sorprende vedere questa giovane donna prendersi sempre più spazio sulla scena musicale, riuscendo ad arrivare dritta al cuore del pubblico con la sua voce forte e potente. Di recente, Annalisa ha terminato il suo tour tutti nel vortice Palasport, mentre quest'estate sarà impegnata nel tour outdoor. Annalisa, la notizia improvvisa, come sappiamo, Annalisa non è solo una tra le più talentuose cantanti della sua generazione, infatti, proprio da recente ha ricevuto un riconoscimento molto importante che esula dal mondo della musica. La NASA, infatti, ha dedicato a questa stella della musica italiana, un asteroide chiamato, 20.014 Annalisa. La notizia è arrivata all'improvviso, ma siamo stati tutti felici dell'importante riconoscimento che le è stato dato. Non solo cantante e cantautrice di successo, ma anche una brillante studentessa che ha preso la laurea triennale in fisica nel 2009. Purtroppo però notizia che ha lasciato i fan senza parole, riguarda una rinuncia importante che la cantante è stata costretta a fare. Una scelta che non può essere evitata. Negli anni, Annalisa è davvero molto cambiata. Da giovane ragazza si è trasformata in una bellissima e giovane donna di successo, che ha molto cambiato il suo stile non solo nell'abbigliamento, ma anche nell'alimentazione. La cantante, infatti, come ha rivelato anche il messaggero, ha deciso di rinunciare alla carne nella sua dieta. La sua è stata una scelta ben ponderata a causa degli abusi e dei maltrattamenti che subiscono gli animali. Per questo motivo, cerca sempre di mangiare in modo sano ed equilibrato, allenandosi con costanza per mantenersi in forma.